Ogni volta che mostro un'immagine astronomica, per esempio quelle nuove del telescopio spaziale James Webb o quelle di Hubble, una domanda ricorrente è ma i colori nell'immagine sono colori reali? Cioè quello che vedo è quello che vedrebbero i miei occhi se fossero abbastanza potenti oppure se fossi abbastanza vicino a quell'oggetto? Insomma è una vera fotografia o è una elaborazione? Proviamo a capirlo. Intanto togliamo subito di mezzo una questione. Qualunque fotografia, qualunque immagine è una rappresentazione della realtà. Se faccio due foto dello stesso oggetto, della stessa situazione, con due macchine fotografiche diverse, ottengo due risultati diversi, a volte anche molto diversi. Perché? Perché quello che ottengo nella foto dipende dal tipo di lente che ho utilizzato, dal tempo di esposizione. Quando c'era la pellicola dipendeva dal tipo di pellicola che veniva utilizzata, dai reagenti chimici necessari a sviluppare il negativo e poi a fare la stampa. E oggi dipende dal tipo di sensore della fotocamera, dagli algoritmi che vengono utilizzati nella fotocamera per produrre il risultato finale a partire dai dati del sensore. E poi ogni fotografo, soprattutto se è un professionista, ha una sua procedura dopo aver preso la foto per elaborare l'immagine, per esaltare la gamma cromatica, per cambiare il contrasto e così via. Quindi una foto è sempre il risultato di un processo che dipende dal tipo di strumento utilizzato, dall'elaborazione che faccio dell'immagine e dal risultato che voglio ottenere con quell'immagine. Naturalmente quello che vogliamo è una foto che sia una riproduzione il più possibile fedele della realtà, che non introduca elementi estranei o inventati addirittura nell'immagine. Tutto questo è vero naturalmente a maggior ragione anche per le immagini astronomiche, solo che in questo caso ci sono difficoltà ulteriori legate al fatto che gli oggetti che vogliamo osservare e fotografare sono molto deboli o molto distanti, non possono essere visti coi nostri occhi. Quindi da un certo punto di vista chiedersi che cosa avremmo potuto vedere se avessimo potuto osservare quell'oggetto non ha molto senso, perché il punto è esattamente che non possiamo osservarlo quell'oggetto usando i nostri occhi. Poi c'è un altro punto, le immagini astronomiche e in generale le immagini scientifiche non vengono fatte per ragioni estetiche, vengono fatte perché vogliamo capire delle cose, quindi devono contenere informazione scientifica e deve essere informazione reale, quindi su quello che c'è effettivamente nella realtà e che non sia stato alterato dal processo successivo di elaborazione. Ma di fatto le immagini astronomiche sono quindi un modo per visualizzare dei dati. Non devono necessariamente avere un valore estetico, ma devono essere usate per capire qualcosa su quello che stiamo osservando. Quindi in generale se ci chiediamo è una vera foto, la risposta è ovviamente sì, lo è certamente, ma non nel senso che avremmo potuto scattarla con la nostra macchina fotografica, a parte rarissime eccezioni, ma nel senso che è una rappresentazione fedele e accurata della realtà che ci fa vedere qualcosa che non avremmo potuto vedere con la nostra vista. Ora, fatta questa promessa, è importante capire che la nostra vista è sensibile solo a una porzione ristretta dello spettro elettromagnetico, quella che viene appunto chiamata luce visibile. All'interno di questo intervallo ci sono tutti i colori che l'occhio umano può effettivamente osservare, quelli che vanno dal rosso al violetto, i colori dell'arcobaleno per intenderci. Ognuno di questi colori corrisponde a un determinato intervallo di frequenze, di lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica. Bene, ma come fanno i nostri occhi a vedere la luce visibile e a vedere i colori? Hanno dei recettori, dei recettori sensibili a tre colori in particolare, al rosso, al verde e al blu. Mescolando la luce di questi colori riescono a riprodurre tutta la gamma cromatica, quindi a vedere tutti i colori che sono presenti nella realtà. Guarda caso, questa tecnica è proprio la tecnica che viene utilizzata negli schermi dei computer, negli schermi dei televisori, negli schermi degli smartphone, in cui ci sono dei pixel rossi, verdi e blu di intensità variabile e attraverso la mescolanza di questi tre colori si producono tutti i colori visibili. E questa è anche la tecnica che è stata utilizzata ormai molto tempo fa per produrre le prime immagini fotografiche a colori. L'idea è molto semplice, si fanno tre immagini dello stesso oggetto attraverso tre filtri che fanno passare solo la luce rossa, la luce verde e la luce blu. Quindi si producono tre immagini in bianco e nero, tre immagini monocromatiche, che contengono però l'informazione sull'intensità della luce rossa, della luce verde e della luce blu. Queste tre immagini poi possono essere ricombinate, facendo passare la luce di ciascuna delle immagini attraverso un filtro rosso, un filtro verde e un filtro blu. Il risultato si combina e si produce un'immagine che contiene tutti i colori. Di fatto ancora oggi, come ho detto, tutte le immagini digitali, i file che vedete sui vostri computer, sui vostri smartphone o le immagini che vedete sui vostri televisori, sono prodotte in questo modo. Cioè viene combinata l'intensità luminosa nel rosso, nel verde e nel blu. Sono immagini monocromatiche, in bianco e nero, fuse insieme per avere qualcosa di più vicino possibile ai colori reali. Naturalmente una tecnica del genere può essere usata in astronomia. Se il nostro telescopio ha dei filtri che fanno passare la luce rossa, la luce verde e la luce blu, possiamo ottenere tre immagini monocromatiche, poi elaborarle successivamente, metterle insieme e ottenere un'immagine a colori reali di quell'oggetto che stiamo osservando. In questo caso quindi l'immagine composita si avvicina moltissimo a quello che potrebbe osservare la nostra vista se fosse abbastanza potente. Però questo non avviene molto spesso in astronomia. A volte alcune immagini, per esempio quelle dei pianeti, sono fatte per avvicinarsi il più possibile ai colori reali, quindi per mostrarci quello che potrebbe vedere un astronauta a bordo di una nave spaziale se si avvicinasse a quel pianeta. Però questo capita piuttosto di rado, il più delle volte la riproduzione dei colori nelle immagini astronomiche non è fedele a quella reale. Perché? Perché come ho detto gli astronomi non sono interessati a fare semplicemente delle belle immagini, ma vogliono avere informazioni fisiche su quello che stanno osservando. Quindi spesso filtrano la luce in lunghezze d'onda molto specifiche che danno informazioni particolari, per esempio perché a quelle lunghezze d'onda certi atomi o certe molecole emettono molta più radiazione elettromagnetica. Queste lunghezze d'onda non corrispondono necessariamente a quelle della luce rossa, verde e blu. Quindi se le combiniamo non otteniamo un'immagine a colori reali. Possiamo però ugualmente scegliere di assegnare a queste immagini monocromatiche fatte nelle differenti lunghezze d'onda i colori che corrispondono a quelli dei recettori della nostra retina, quindi il rosso, il verde e blu, e ottenere un'immagine che contiene tutti i colori. Per esempio in molte immagini di nebulose prese dal telescopio spaziale Hubble, il blu è assegnato all'ossigeno, il verde è assegnato all'idrogeno e il rosso è assegnato all'azoto. Nella realtà però se potessimo veramente osservare quelle nebulose con gli occhi, l'ossigeno apparirebbe verdastro, ma sia l'azoto che l'idrogeno apparirebbero rossicci. Quindi l'immagine combinata di Hubble usa una sua tavolozza, non è un'immagine a colori reali, è un'immagine a falsi colori che però ci dà informazioni molto importanti sulla composizione chimica di quella nebulosa. È una rappresentazione fedele della realtà, ma è pensata per cogliere dei dettagli che non sarebbero così evidenti ai nostri occhi. Tra l'altro in effetti si possono fare immagini a colori reali di questi oggetti, per esempio di queste nebulose. Se le confrontate con quelle prodotte usando la tavolozza di Hubble, il risultato non è così interessante. Poi c'è anche un altro fatto. Gli strumenti astronomici non osservano soltanto la luce visibile, possono osservare anche radiazione elettromagnetica che non riusciamo a vedere con i nostri occhi. Per esempio l'infrarosso, l'ultravioletto, le onde radio, i raggi X, i raggi gamma. Quindi spesso le immagini che osserviamo sono ancora più complicate, sono il risultato della combinazione di molte immagini diverse prese a diverse lunghezze d'onda, anche fuori dallo spettro della luce visibile. In questo caso non può esserci corrispondenza con i colori reali, perché semplicemente fuori dallo spettro della luce visibile non esistono colori, almeno non esistono colori che noi possiamo vedere con la vista. Quindi che si fa in questo caso? Si danno dei colori del tutto arbitrari, l'astronomo in qualche modo ha la libertà di scegliere una tavolozza che esalti le informazioni contenute in queste immagini, che rendano quindi evidenti i dettagli più interessanti. Il punto è che ognuna delle bande dello spettro elettromagnetico ci dà informazioni su particolari processi fisici, quindi noi vogliamo osservare l'universo a diverse lunghezze d'onde. Per esempio la polvere di una nebulosa assorbe la luce visibile, non potremmo vedere quello che c'è al di là usando i nostri occhi, ma invece è trasparente alla radiazione infrarossa. Quindi usando un telescopio a infrarossi riusciamo a vedere le stelle che stanno al di là della nebulosa. Non potremmo mai vederle usando la vista, ma possiamo vederle usando lo strumento adatto. Il telescopio spaziale web, per esempio, è uno strumento che osserva prevalentemente proprio la luce infrarossa, perché questa ci dà informazioni che non potremmo ottenere in altro modo. Ma la conseguenza è che quando guardiamo un'immagine del telescopio spaziale web non stiamo vedendo quello che potrebbero vedere i nostri occhi. Ma va bene così, perché i nostri occhi non potrebbero vedere nulla di interessante in quel caso. E nello stesso modo abbiamo ottenuto immagini astronomiche molto importanti usando per esempio le onde radio, come l'immagine del buco nero al centro della nostra galassia, oppure usando le microonde come le mappe dell'universo subito dopo il Big Bang. Ci sono fenomeni di alta energia che producono molti raggi X e raggi gamma e quindi vanno osservati in quelle bande dello spettro elettromagnetico. E la luce delle galassie più distanti che possiamo osservare è stata spostata nella parte infrarossa dello spettro a causa dell'espansione dell'universo e del redshift. Ripeto, nessuna di queste cose sarebbe visibile agli occhi. Per ottenere queste immagini bisogna fare osservazioni molto lunghe, usando strumenti molto sofisticati, e poi processi di elaborazione dei dati altrettanto sofisticati. Ma ciò non toglie che queste sono fotografie della realtà, cioè sono rappresentazioni accurate di quello che esiste davvero. Certo, non sono foto che avreste potuto scattare col vostro smartphone, ma il bello è proprio quello.